bella a tutti ragazzi siamo qui in questo il primo video con z da prugna e super spike walls e oggi volevo mostrare la mia invenzione ispirata alla mia skin che altro soprattutto quella cosa io la c'ho sotto comunque benvenuti ragazzi questo è il mio gesto personale che porta allende così le cose le butto e viva le proglie le invenzioni che vi volevo mostrare oggi è il pene sborratore cioè è immenso naturalmente perché dovevo fare un video quindi volevo quindi mostrarvi la mia invenzione benvenuti ragazzi sulla minisola penosa senza la parola battuta squalida e ora saliamo sopra dove ho messo un distributore mi raccomando non gettatore perché il gettatore delle dalle cose mentre distributore le lancia e qui vi consiglio di fare un sempre volete fare questo pene un ripetitore così non mettendo il ripetitore ma utilizzando due cubi uniti dalla redstone con quattro docce avanti e dietro e poi unire vabbè con la redstone che ora è in mano mettere se volete potete mettere qui la gesta con tutte le palle di neve e vabbè è l'utile che volete e qui ora cercherò di essere più veloce possibile per potervi mostrare appunto tutto vi consiglio di mettere le palle di neve mi raccomando e ora via è più scenico ragazzi eccolo qui da qui è più scenico ragazzi cosa c'è di meglio te l'ho detto è un'invenzione personale mai fatta su youtube e ho voluto pensare anch'io e per quanto mi riguarda potete chiedermi di fare qualche invenzione per voi e la farò almeno cercherò di farla perché c'è a me su Minecraft mi piacciono fare queste cose non c'è farò anche video sugli Hunger Games e su tutto però mi piacciono fare più queste invenzioni e quindi bella da Z da Pugna e Super Spike Wolf questo è tutto ci vediamo in un nuovo video che ve lo citerò non non No 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 Ma Grazie a tutti.